Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo nel percorso che porta i pellegrini a visitare tutti i luoghi che hanno visto la presenza di San Pio da Pietrelcina in questo convento. Oggi per leggervi un passaggio di una lettera che riprendiamo dall'epistolario numero uno, che Padre Pio scrive a Padre Agostino raccontandogli quello che accadeva a Pietrelcina perché come ben sapete Padre Pio era a casa, non riusciva a stare con i suoi confratelli in convento perché questa strana malattia non glielo permetteva dal punto di vista fisico, era una malattia permessa ecco così dal Signore, una strana malattia. E in questa giornata Padre Pio racconta a Padre Agostino quello che accadeva in queste battaglie col demonio. Padre Pio veniva picchiato con degli ordigni di ferro mio dilettissimo Padre, poiché non sono buono a dar segno di riconoscenza, vi auguro che Gesù vi ricompensi a cento doppi la carità che usate voi verso di me. In salute sto benino, ma la vista non vuole ritornarmi, barba blu non si vuole dare per vinto, ha preso quasi tutte le forme, da vari giorni qua mi viene a visitare assieme con altri suoi satelliti armati di bastoni e ordigni di ferro e quello che è peggio sotto le proprie forme. Chissà quante volte mi ha gittato dal letto trascinandomi per tutta la stanza, ma pazienza. Gesù, la mammina, l'angioletto, San Giuseppe e il Padre San Francesco sono sempre con me. L'arciperrete mi vuole bene, più che un Padre, dico sinceramente che mi addolorano un poco di non poterlo aiutare, Massimo nel confessare, non avendo il provinciale dato segno alcuno nell'autorizzarmi alla confessione. Questo era quello che accadeva a Pietrilcina nel gennaio del 1912.